Ci sono delle cose incredibili che continuano ad accadere nel nostro paese, ci sono dei gruppi di ultra, di squadre di calcio che scherzano o pensano di scherzare sulla storia, sulla figura di Anna Frank, quello che è successo ieri è incredibile, inaccettabile, non può essere minimizzato, non deve essere sottovalutato, non sottovalutiamo i rischi del diffondersi di tensioni nel nostro tessuto sociale.